Un ciao da Caterina e Massimo da Telgate. Questa sera medichiamo il mistero dell'ultima cena di Gesù, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, di passare da questo mondo al Padre, amò i Suoi fino alla fine. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, si alzò da tavola, depose le vesti, e preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Versò nell'acqua del catino e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli, e a asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane, e pronunziata la benedizione, lo spezzò, e lo diede ai discepoli, dicendo Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Poi, prese il calice, e dopo aver reso grazie, lo diede a loro, dicendo E vedene tutti, perché questo è il mio sangue, dell'alleanza. Versato per molti, in remissione dei peccati. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Voi, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Voi, siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E io, preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Perché possiate mangiare e bere alla mia mensa, nel mio regno. E siederete in trono, a giudicare le dodici tribù di Israele. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, fa molto frutto. Perché senza di me, non potete far nulla. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi do un comandamento nuovo. Che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Con questo saluto si conclude la nostra preghiera. L'appuntamento è per lunedì sera, alla stessa ora. Ricordo domani l'appuntamento con Don Alberto e la spiegazione del Vangelo di questa settimana. E ricordo la Santa Messa di Domenica. Grazie. 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 Grazie.